Vieni di qua, Maroni, vieni pure tu, però ti devi abbassare perché sennò è caldo, abbiamo anche Vinci, ciao, in questo suo talaspeco, Maroni ma cominciai, vai allora va guardando nelle buste perché pensa che gli ho comprato qualcosa, si è intossicato, si è intossicato perché? Perché si è intossicato? Ho comprato niente e ho comprato la merenda, ma la merenda quella è col parmigiano, non è niente di dolce, quindi niente, iniziamo questo svuota la spesa, allora iniziamo subito ragazze, sono stata sia all'MD e sia alla Coop, uno svuota la spesa interessantissimo, si è verissimo, Allora ragazze, iniziamo subito, qua non c'è nessuno, quindi non posso battere le mani, stai spesa ma già usato tutti i guandini, allora, pelati il gustato, per domani perché farò il ragù, però non il ragù con la carne macinata, ragù indeso come braciole, tracchie e salsiccia Il ragù con la carne macinata, ragù normale, la bolognese, non vuoi il pomodoro con la carne? No, ma io l'ho imposto il ragù la domenica Ah, davvero? Sì Andiamo avanti, subito, 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 con le pelati qua Allora ho preso il Vici Gel con candeggina che mi era finito sopra Perché avendo tre bagni ragazze, purtroppo, questo è il brutto, va giù e sopra Allora, poi ho preso sempre all'MD il DAT5 multiuso con alcol Poi ho preso il deodorante per grandi ambienti per metterlo in bagno Ma dobbiamo aprirlo un attimo? È una bella d'oro Oh, come è bella sta d'oro Stai a te, non sei roba, sono, sono Ah, sono dovuta adoro, dicevo sono dovuta adoro Bella Un odore di fiori, molto bello Ma staccato yogurt, non è yogurt, non so chi è yogurt Perché questo mi servirà stasera per la cena No, ne voglio uno È bianco, è senza sapore Lo so, infatti mi piace lo yogurt greco Non è lo yogurt greco, è lo yogurt intero bianco È acido È aspro Ti piace? È sempre un'impresa per fare sto ci vuotare a spese Succede sempre qualcosa Vinci Ho trovato un coppo fatto Vinci, ti sei trovato su fatto Allora, poi ho comprato sempre all'MD il pollo Allora, poi ho preso due merende per i da sempre col parmigiano Non è per me Ho preso la farina per i dolci Perché voglio provare, voglio vedere se riesco domani a fare due muffin Vediamo un pochino Se no in settimana Poi ho preso le spezie No, ma non ho preso niente A dire, ma io si ci diamo qualcosa, Cristia Non ce la faccio Allora, ho preso un po' di spezie Eccole qua Ma il Dio che si beva a scuola Allora, quando non ce l'ho, ovviamente Fresco Vi ce l'ho pensato, non ce la faccio Sennò mi viene l'angoscia Allora, ho preso peperoncino Pepe nero Paprica dolce e prezzemolo Poi ho preso del formaggio pecorino E questo qua grattugiato che mi servirà stasera Per quello che dovrò preparare Poi vi farò vedere Ho preso dei dischetti make up per struccaggio alle ragazze Bicchierini Ho preso due confezioni di tono Vi ripeto perché era in offerta L'altra merenda di Ida E Ida Vici e meron Poi ho preso dei sacchetti Neri, più grandi Perché ho delle cose da mettere dentro Dei vestiti Da portare Poi ho preso del lievito Questo qua fresco Per fare le pizzelle Le pizzelle di fiori di zucca Le pizzelle di shuril E infatti ho preso anche la farina perché era finita Questa qua La media mi ha fornuto già E che? E' vero, eccolo, un altro E' vero, eccolo, un altro Ah, gli ho andato a bustella a me Ti dicevi? Mi arrivo strano Allora, eccoli qua, infatti i fiori di zucca Non li vedevo Eccoli qua, ragazzi Fiori di zucca per fare queste frittelle Ti piacciono le frittelle di più? E' un zonato Ecco Mix allegro Domani Poi ho preso Poi ho preso prosciutto gru E prosciutto cotto Mi alzo Poi ho preso le uova Pietro, cominci a mettere che è stigionato al frigorifero Ah, qualche cosa? Ti ha Poi che ci sta più alle meddine? Ah, il misto Come si dice? Misto cubettato Quello di salumi Questo ma tra poco per fascia Qua servirà per il casatillo E poi Anche alle meddine ho preso i probiotici Però ragazze Sono stata pure alla copp Non potete capire C'era in offerta 1,89 euro Vici Usare le due robbie Giù pacienza Ah, domani vuoi fare il ragù? Aiuta Vincenzo un po' Ah, domani vuoi fare il ragù? Sì Ok Allora abbiamo finito con l'MD Ed ora procediamo con la copp Ragazze Sì Spesa molto interessante Molte offerte alla copp Mamma mia Fermo Allora iniziamo con Con questo Allora anche questo Allora ho preso il finish power gel all in uno Ragazze c'era l'offerta Io ne ho preso solo uno Però Era competente prendere No anche un altro Però dovevo prendere parecchie cose Quindi non mi soffermavo più di tanto E ho preso questo qua 2,99 euro alla copp Ma 3 euro solo 3 euro È ottimo Perché sta 2 euro No vince Io mi accendo mobile Allora quindi Ottimo Poi ho preso Il gel per piatti Agli agrumi Perché era in offerta 1 euro e 10 È liquido C'era sia il limone Che agli agrumi Ma che te fa un bel E no Ed è dura sempre tutto Questo non c'è niente Questo lo frigo Vincere Che le ho due cose Vale per stendere E quindi c'era Eccoli qua I probiotici Alla copp Erano 1 euro e 89 Aiuta Vincente Inizio a posare nuova La farina E la pasta Io sono la segreta Vincente Tu puoi fare la roba Ruffi Io non ti ho detto Come un po' così Non è giusto Che puoi fare la roba Tu Che hai fatto A fare la roba C'è Vincente Poi ho preso Una propoletta Da mettere Stasera Dentro a quello Che dovrò fare Stai ferma No Questo non Vincente Vincente Sì Vincente Vincente Perché Erano pure in offerta Poi All'emmedio ho preso Pure le salviettine Non ve le ho fatte vedere E l'odore Quelle che tenevamo Già Lo conosci già Ma ganusce già D'ora No L'odore L'odore L'uva No E l'odore Che tenevamo Ma perché Immagino Stasera Allora Poi ho preso La miscela Di farina E lievito Per stasera Perché preparerò Questa cosa Che poi dopo Farò vedere La pizza No Preparerò Una cosa Che dopo farò vedere La pizza Ma bello Diciamo Io preparo La torta Sette vasetti E cos'è Con i salumi Mi serviva La farina Già con il lievito Che schifo Dietro ci metti La Che fammo Di mangiare Sti yogurt Allora Poi ho comprato Ragazzi Era in offerta E L'ho voluto Prendere Lo swiffer Perché Non l'ho mai provato E' vero Mamma Io in questa Sulla pubblicità L'ho provato Perché era in offerta Il kit intero 9 euro E ci escono pure i panni 8 panni Per la polvere Diciamo E 3 per lavare a terra Voglio provarli Voglio provarli Vincere Vincere La mappa Ehm Poi Attenzio Allora Poi Ti provo Però Ho i yogurt Ti faccio Tra l'occhio Da mano Più ti verrà Però eh No Non ho pensavo Non ho pensato Che ci vuole Che ci vuole una mano Qualcun guai fa E ci vuole una parola Invece Mangiate pure i tuoi yogurt No Prendete pure i tuoi yogurt Chi non piace a te Che palline A che vuoi? Prendete Mangiate i tuoi yogurt Se ti piace Prendete Ti sto dicendo No no Allora Poi ho preso Il blitz Della regina Che io lo uso molto Come asciugone Per i vetri Per la tv Perché è molto pratico Poi ho preso Ma passiamo da una cosa A un'altra Ecco qua La carne Ho preso le tracchie Che domani metterò nel sugo La carne L'hamburger Gli hamburger Del bacon Ma qua bacon Queste sono sempre le tracchie Poi ho preso le braciole Le braciole Che sono gli involtini Che dentro ci si mette Sale Pepe Aglio Prezzicolo E formaggio Si arrotolano Con gli stuzzicadenti E si mettono Eh mamma Però tu non ti fai Chi dai Che ne faccio E faccio Ma non voglio Poi ho preso Due carne macinate Ecco qua Due confezioni Vincenzo Fane cosa Mettemi tutto Cosa Mamma Voglio pastare la cocco Come lo fai all'aneggiarlo No Poi chiedi fuori Sinceramente Stasera Ma io postare la cocco Come lo facevi sempre Tu però Stai aiutando Vincenzo Ma non ce l'ho capito Ma Vincenzo è mia figlia Io non ce l'ho capito Io non lo so Guarda Ma poi ho preso Ajax Expel No scusate Non è Expel Questo è il disinfettante Senza cantigina È tipo il liso Perché ragazze Io giù in cucina Lo uso A stani Ragazze Poi abbiamo finito Vincenzo Sì E poi Ho preso L'olio per figgere Sempre in offerta Due litri Due euro e diciannove Ottimo Allora Maron Grazie di aver guardato Il nostro cibo della spesa Vincenzo Vieni qua pure tu Sto ragazzo mi ha aiutato Dice la verità È un bravissimo bambino Vincenzo Stava aiutando pure Pietro A fare i compiti Infatti è un ragazzo È un ragazzo bravissimo Vincenzo È un ragazzo di 18 anni È 18 anni Ma quant'anni fa Vincenzo Agosto 13 Maron Tririshan E tu già sei avuto Così Vincenzo Vincenzo Mamma mia Ti dobbiamo guardare Dall'altro Così È bravi Allora Salutiamo Ragazzi Grazie di averci guardato Anche in questo nuovo Svuota la spesa Sempre in subbuio Ma questa è casa di Alfie Non c'è niente da fare Ci vediamo in un prossimo Svuota la spesa Con noi Alfie Pietro E semmai anche Vincenzo Ciao ragazzi Se ci sarà Se ci sarà Ciao Ciao Allora iniziamo subito Vado a preparare la torta Sette vasetti Per questa sera Questi sono gli ingredienti E nell'info box Troverete la ricetta completa Allora inizio subito Con prendere la planetaria Perché la impasterò Nella planetaria Vado a metterci Due vasetti di yogurt Perché io farò La doppia dose Io vi metto Una dose Però voi se volete Farla più Più grande Basta raddoppiarle Come ho fatto io Quindi Due vasetti Di yogurt Poi andiamo a sciacquare Un vasetto di yogurt Ci vado a mettere L'olio di semi Di girasole E le uova Che ho precedentemente Messo in questo contenitore E andiamo a mettere La frusta Questa qua Per montare E facciamo andare Il composto Il tutto Quando si sarà montato Spegniamo Io cambio la frusta Metto quella piatta Perché poi andremo Ad impastare Con la farina E ora ci mettiamo Il formaggio Grattugiato Il latte E infine poi Mettiamo La farina Che ho precedentemente Che poi Già misurato Con i vasetti Perché qui è tutto A vasetti Facciamo andare Prima un po' Che il latte E il formaggio Fermo E ci vado a mettere I vasetti Che ho misurato Di farina Volevo Ora vado Ora vado A imburrare A imburrare Non la imburro Non la imburro Col burro Ma con la sugna Questa è la sugna Che ha fatto Una cognata Fatta in casa Potete metterci Il burro Lo strutto Olio e farina Comunque l'importante Che dopo Infariniamo un pochino Io ho preso La tortiera Con lo strappo Quindi che si apre Perché è molto più comoda Soprattutto per fare Questi tipi di rustici E poi ci vado A versare L'impasto Io avendo Il guanto Monouso Mi aiuto Pure a Mettere Finire di mettere L'impasto Perché veramente Si raccoglie Tutto Tutto Mi raccomando Dopo Preriscaldate Già prima Il forno Lo mettete A 180 gradi Io lo metto Ventilato Per 40-45 minuti Questo è Il tempo Poi fate sempre La prova Con lo stecchino Per vedere Se dentro È asciutto Eccola qua La nostra torta Sette vasetti Salata È pronta Ed ora La andiamo A Togliere Dalla Dalla teglia Però Questa teglia Ecco qua Ha la particolarità Che non bisogna Poi girarla Con il piatto Quindi subito L'abbiamo pronta A portata di mano La lasciamo Intiepidire Perché va servita Tiepida E che dire Buon appetito Grazie di aver guardato Il mio video Grazie che mi seguite Sempre Iscrivetevi A casa di Alfie Se vi piace Il mio canale E attivate La campanellina Ci vediamo Nel prossimo video Ciao 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 Why you keepin' me important